ciao a tutti bentornati sull'antimeta siamo in Lorenz siamo qua con il contest analizziamo il vostro commander di luglio ritardo come al solito ma dai c'è stato il magic con abbiamo fatto un po di vacanze quindi ci siamo riposati per tornare carichi a massima potenza allora qua abbiamo il mazzo commander fidati di astarion del buon alessio che ringraziamo per averci mandato la lista in modo super veloce e come sempre vi invitiamo a lasciare un like al video per supportare il canale e a rispondere alla domanda del contest di questo mese domanda che è quale dei quattro mazzi di blonburro preferite quindi andatevi a riprendere il video che è uscito pochi giorni fa sulla nostra analisi dei dei comandanti di blonburro ci fate sapere quello che preferite e poi verso fine mese i primi di agosto estrarremo il vincitore del contest di questo mese io ti direi che per adesso quello che mi ha ispirato di più è quello volante 1 3 1 3 il bardo uccello il bardo uccello a me invece piace il coniglio quello group hug che quello bant che fa cose quello mi è piaciuto di tra i quattro quello che mi piace di più perché fa tante cose e non è da sottovalutare va bene comunque torniamo ad astarion the decadent creatura di baldos gate costa 6 di cui un nero e un bianco è un 4 4 tocco letale lifelink all'inizio della tua end step scegli uno tra food e friends food dice un giocatore un avversario perde vite pari alla montare di vite che ha perso in questo turno e invece friends dice fai vite pari al numero di punti vita che hai guadagnato in questo turno quindi a fine turno fai o ricarica o dai un bel colpo costa un po tanto costa 6 e prima usava un leg dar marco quello creatura bianco nero che si quando muore ritorna girato e ha preferito mettere astarion secondo me è un po pesantino ma adesso andremo a vedere il mazzo com'è composto qui vediamo sorin markov a costo 6 di cui tre neri entra a 4 col più 2 fa due danni a una creatura bersaglio che un giocatore e tu fai due vite col meno 3 un avversario bersaglio alle sue vite diventano 10 ok e meno 7 controlli un giocatore durante il suo prossimo turno ok è abbastanza cattivo questo sorin abbastanza cattivo poi entra fa subito il meno 3 e manda uno a molte poche vite è molto pericoloso molto pericoloso costa tanto però anche perché però aspetta non va in sinergia col comandante quell'effetto perché non fa perdere diventano quindi non perde 30 vite quindi purtroppo non va in sinergia con astarion però insomma è già pericoloso così esattamente poi abbiamo sorin grim nemesis costa sempre 6 però stavolta c'è un nero e un bianco entra con 6 col più 1 rivela la prima carta del tuo grimorio e metti quella carta nella tua mano ogni avversario perde vite pare al suo costo di mana convertito molto forte col meno x fa x danni a una creatura bersaglio o planeswalker bersaglio e tu fai x vite col meno 9 metti un numero di vampiri 1 1 cavalieri token con lifelink sul campo di battaglia pari ai punti vita totali pari alle vite del giocatore che ha più vite insomma quindi insomma non è male perché il fail più 1 è un buon effetto perché ogni turno rivela e fa perdere vite a tutti esatto questo dovrebbe andare in sinergia con il comandante il comandante dice target si target quindi si bersaglia su un avversario però non è male ci si accanisce con uno alla volta poi andiamo al reparto creature blood letter of aclazot è impossibile quasi da leggere comunque un costa 4 con 3 nevana neri 2 4 con volare se un avversario sta per perdere vite durante il tuo turno perde il doppio di quelle vite ok non è male non è male 2 4 volante molto molto pericoloso si blottristi aerialist costa 3 2 3 volante ogni volta che guadagni vite gli metti un più 1 più 1 sopra ok si potenzierà bene in questo mazzo poi blottraker costa 4 2 2 volare tappa un nero paga due vite metti un signo più 1 più 1 sul blottraker quando lascia il campo di battaglia pesca una carta per ogni signo più 1 più 1 che aveva quindi peschi tanto quando lascia il campo si questo ci sta forse si fa pescare però dice lift the butterfly quindi anche se viene blinkato esattamente però perde i segnalini perde i segnalini però quando lascia ce l'aveva si si ma qui non penso che questo mazzo blinchi no no nel senso anche se te lo esigliano si si in qualunque modo cambia dal campo il suo effetto triggera funziona quindi è molto molto forte cliffhaven vampire costa 4 2 4 volante ogni volta guadagni vite ogni avversario perde una vita ci sta questo non male perché in risposta fa dei danni aggiuntivi poi creeping bloodsucker costa 2 1 2 all'inizio del tuo sottofase finale no keep e mantenimento in keep ah si stavo leggendo male all'inizio del tuo mantenimento fa un danno a ogni avversario fai vite pare il numero di pare i danni inflitti in questo modo quindi se ci sono tre avversari tu fai tre vite molto forte in questo modo bello crested sunmare costa 5 2 bianchi 5 5 gli altri cavalli hanno indistruttibile all'inizio di ogni sottofase finale si è guadagnato vite in questo turno crea un cavallo 5 5 anche questo è forte perché di vite se ne fanno parecchie poi c'è crypt ghast costa 4 2 2 estorsione ogni volta tappi una palude per attingere mana aggiungi un mana addizionale molto molto bello anche questo classico in i mezzi a tema nero kokusho the evening star costa 6 5 5 quando lascia volante naturalmente come tutti i draghi che conosciamo è messo quando kokusho è messo in un cimitero dal gioco ogni avversario perde 5 vite tu e daniel tre tante vite pare tutte quelle perse in questo modo contro avversari 5 vite a tutti e tu ne fai 15 cambal consul of allocation costa 3 di cui bianco nero 2 3 ogni volta un avversario lancia una magia non creatura quel giocatore perde 2 vite e tu fai 2 vite ok va bene indulging patrician costa 3 1 4 volante lifing all'inizio dei tuoi step se hai guadagnato 3 o più vite in questo turno ogni avversario perde 3 vite questo qui molto molto forte poi abbiamo henrica donnaci costa 4 di cui 2 neri 1 3 volare all'inizio della combat nel tuo turno scegli uno che non è ancora stato scelto ogni avversario significa una creatura tu pesca una carta e perdi una vite trasforma henrica diventa infernal seer 3 4 volare tocco l'età nel legame vitale tappa 3 di cui 2 neri ogni creatura dei controlli e con volare death touch e o legame vitale prendi più 1 più 1 più 1 più 1 più 0 fino a fine turno ok quindi dai un power up a tutte le tue creature che hanno una di queste tre abilità diciamo che è carina si non è fortissima però vabbè ci può stare ci può stare eliod sun crowned costa 3 5 5 indistruttibile fino a che la tua devozione al bianco è inferiore a 5 non è una creatura ogni qualvolta guadagni vite e metti un più 1 più 1 su una creatura o un incantesimo che controlli tappa 2 un'altra creatura prende l'ifling fino alla fine del turno ok questo eliod è molto forte si agisce anche col blood tracker che gli piazza dei più 1 più 1 sopra è la sickor sadistic pligrim costa un bianco e un nero 2 2 con tocco l'età ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia sotto controllo fai una vita ogni qualvolta un'altra creatura che controlli muore ogni avversario perde una vita molto forte in tutti i mazzi aristocrats come questo dranellinvala costa 4 2 bianchi e un nero tra 4 volante cautela le abilità attivate delle creature dei tuoi avversari non possono essere attivate molto molto forte blocca anche gli elfi mistici questo qua perché non dice abilità non di mana dice proprio le abilità attivate esatto fortissimo dranellinvala hanno tutte le abilità attivate di tutte le creature che i tuoi avversari controllano puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore per attivare quelle abilità cioè richiedono un costo di mana è fortissimo tra l'altro a vola e a cautela quindi può anche attaccare esatto essere solitamente tappata per attivare le abilità l'iesa forgotten archangel costa 5 di cui 2 bianchi e un nero 4 5 volare e legame vitale ogni qual volta un'altra creatura non token che controlli muore fa tornare quella carta in mano al suo proprietario all'inizio della prossima sottofase finale se una creatura che un avversario controlla sta per morire esilia quindi esilia quelle degli altri e fa tornare in mano a fine turno quelle nostre che sono morte quindi potentissima ottimo ottimo marauding blight priest costa 3 3 2 ogni qual volta guadagni vita ogni avversario perde una vita molto forte queste che dicono ogni esatto mark of purifier costa 3 di cui un bianco e un nero 2 3 con legame vitale all'inizio della tua sottofase finale se hai guadagnato vita in questo turno puoi pagare 2 mana se lo fai peschi una carta ok un peschino ci può stare carta che piace a che robe sì nighthawk scavenger costa 3 2 neri è un 1 3 più x dove praticamente no scusate ho letto è un 1 più x è un 1 più x e 3 è sempre fisso di costituzione la sua forza è 1 più il numero di tipi di carte tra le carte nei cimiteri dei tuoi avversari volante detta c'è l'ifling c'è tutto quello che serve quindi è il falco notturno però potenziato alla tarmogoy esatto non male poi abbiamo rox fate mander costa 4 1 5 con lifelink se stai per guadagnare vite guadagni il doppio di quelle vite istantaneamente beh è forte ci sta rodolf dusk bringer costa 6 4 4 volante death touch lifelink ogni volta guadagni vite rodolf prende indistruttibile fino a fine turno all'inizio della tua end step puoi pagare 2 di cui un mana ibrido bianco nero quando lo fai fai tornare una creatura versaglio con costo di mana x o meno dal tuo cimitero sul campo di battaglia dove x è il numero di vite che hai guadagnato in questo turno beh non è male questo costa tanto ma è molto forte questo è molto forte ti rimetti in campo creature grosse se guadagni parecchie vite si si scelta l'apocalisse costa 4 4 5 con tocco letale ogni volta peschi una carta fai due vite ogni volta un avversario pesca una carta perde due vite non c'è niente da dire solo se entra è un pericolo per tutti la conosciamo tutti poi abbiamo il guild mage vizcopa costa 2 di cui bianco e nero naturalmente 2 2 tappando 3 sempre con i due colori una creatura prende lifelink fino a fine turno oppure tappando 3 ogni volta guadagni vite in questo turno l'avversario perde altrettante vite quindi anche questo è molto pericoloso poi abbiamo vito turn of the dusk rose costa 3 1 3 ogni volta guadagni vite un avversario o un avversario perde altrettante vite tappando 5 di cui due neri le creature che controlliamo prendono un legame vitale fino a fine turno quindi anche questo è veramente pericoloso questo è forte perché già l'abilità passiva è forte e poi da life link a tutto ed è molto pericoloso la profetessa del crepuscolo costa 4 di cui due neri volare è ascesa all'inizio del tuo mantenimento e se hai la benedizione della città rivela la prima carta nel tuo grimorio e mettila nella tua mano ogni avversario perde x vite tu guadagni x vite dove x il suo costo di mana convertito fortissima la profetessa che questa era ristampata in carlof mano al commander ottimo ottimo poi abbiamo 3 of perdition costa 4 0,13 difensore pianta tappa scambia le vite totali di un avversario bersaglio con la sua costituzione ah ok è cattiva anche questa manda a 3 vici le vite di un avversario eh sì de gaffer costa 3 2-3 ma all'inizio della tua è in step seguendo 3 o più vite in questo turno pesca una carta anche questa qui molto utile per proseguire le nostre strategie su tour priest costa 2 1-1 ogni volta un'altra creatura entra nel campo di battaglia sotto il controllo tu guadagni una vita anzi puoi guadagnare una vita ogni volta una creatura entra nel campo di battaglia sotto il controllo di un avversario puoi fare che quel giocatore perda una vita esatto non male non male molto forte souls attendant costa 1-1-1 ogni volta un'altra creatura entra nel campo di battaglia tu guadagni una vita classica classica voice of the blessed costa 2 bianchi 2-2 ogni volta guadagni vite metti un signore più 1-1 sul voice of the blessed fino a che il voice of the blessed ha 4 o più signore più 1-1 su di esso a volare e cautela fino a che invece ne ha 10 o più a indistruttibile questo qui piano piano diventa potente anche abbastanza velocemente in questo mazzo witch of the moors costa 5 a un 4-4 dettac all'inizio della tua step se hai guadagnato vita in questo turno ogni avversario sacrifica una creatura e tu fai ritornare fino a una creatura dal tuo cimitero nella tua mano quindi questo non è male per riprendersi in mano pezzi e far sacrificare cose agli avversari si finiamo qua il comparto creature molto bello andiamo a vedere le stregonerie abbiamo blood tribute costa 6 di cui 2 neri con kicker il kicker tappa un vampiro stappato di controlli un avversario a bersaglio perde metà dei suoi punti vite arrotolante per eccesso se il tributo è stato kickerato tu guadagni vite pari alle vite perse in questo modo beh non è male il kicker è solo tappare un vampiro stampato stappato non stampato esatto no no molto bella molto bella forte costosina ma forte dam costa 2 neri distrugge una creatura e non può essere regenerata oppure ha il costo di overload a 4 quindi fa ira di dio in sostanza con i 2 bianchi e distrugge tutte le creature e non possono essere regenerate è molto bella questa cosa eh si exsanguinate costa 2 neri e x ogni avversario perde x vite e tu guadagni le vite pari alle vite che sono state perse in questo modo è forte anche questa farwell per fare piazza pulita di tutto ci vuole sempre grim tutor costa 3 2 di cui 2 neri cerchi un teorgomorio per una carta mettila in mano rimescola e perdi 3 vite storino tattico leggere le osse bellissima uno dei mantra di che robe peschi 2 perdi 2 il primo peschino che ho mai usato di magic è fortissimo abbiamo revival costa 2 ibridi tra bianco e nero stregoneria fai tornare una creatura con costo di mano convertito 3 o meno dal cimitero nel campo di battaglia oppure revenge costa 6 di cui un nero e un bianco sempre stregoneria raddoppia le tue vite totali un avversario perde metà delle sue vite arrotondate per eccesso forte molto pericolosa torment of hail fire costa 2 neri e x ripeti questo processo x volte ogni avversario perde 3 vite a meno che quel giocatore non sacrifichi un permanente non terra o scarti una carta e questa è pericolosissima questa in late game è molto molto pericolosa toxic delage fortissima da p3 come costo adizionale paghi x vite meno x meno x a tutte le creature in questo mazzo si può fare un meno x esagerato per essere sicuri di tirar via tutto esattamente passiamo agli instantanei anghi c'è da making costa 3 di cui un nero e un bianco esiglia un permanente non terra perdi 3 vite ok down charm costa 2 scegli 1 prevento di danno combattimento che verrebbe inflitto in questo turno rigenera una creatura bersaglio o counter una magia che ti bersaglia va bene non male intervento di erebus x è nero istantaneo scegli 1 una creatura prende meno x meno x fino a fine turno e tu guadagni x vite esiglia fino al doppio di x carte dai cimiteri quindi questa qui versatile per fare piazza pulita poi c'è l'intervento di heliod costa 2 bianche x scegli 1 distruggi x artefatti e o incantesimi bersaglio o un giocatore bersaglio guadagna il doppio di x vite questo non è male kaias gil costa 3 istantaneo scegli 2 ogni avversario sacrifica una creatura esiglia tutte le carte da ogni cimitero degli avversari crea uno spirito bianco e nero con volare guadagni 4 vite oppure a entwine se lo paghi 3 in più fai tutti e 4 dagli effetti quindi se lo paghi 6 fa tutte le 4 cose ci sta ci sta buono poi abbiamo malachir rebritz costa 1 scegli una creatura bersaglio per i 2 vite fino a fine turno quella creatura prende quando questa creatura muore farà tornare sul campo di battaglia tappata sotto il suo controllo e questa è anche una terra terra di zendikar molto bella perché dietro appunto è in terra tappata quindi versatile in commander da spaga spighe che dire rimozione definitiva del bianco take up the shield costa 2 metti un signo più 1 su una creatura bersaglio prende legame vitali indistruttibile fino a fine turno molto forte anche questa si carina insomma ci sta ci sta poi abbiamo la protezione di teferi e il tutore vampirico quindi due istantanei molto molto conosciuti e abusati abusati andiamo reparto artefatti con eterflux reservoir bellissimo il serbottario di eteroflusso costa 4 ogni volta lanci una magia fai una vita per ogni magia che è lanciato in questo turno paga 50 vite il serbottario di eteroflusso inflige 50 danni a un giocatore o una creatura bersaglio e di solito vengono shottati esattamente poi ci sarebbe la combo che lo fai diventare creatura gli dai legame vitale infili 50 danni tu fai 50 vite e puoi farlo qui però non puoi ci ammetterlo perché non c'è il blu non c'è il blu non c'è il blu peccato salta la combo peccato salta la combo poi abbiamo i classici soldering sigillo arcano la sfera del comandante in più abbiamo il pristine talism questo ci serve perché tappi quando vuoi aggiungi una vita cioè aggiungi un mana in colore e fai una vita cioè è fortissimo gli schinieri per proteggere il comandante ci sta il cosmo elixir costa 4 inizio del tuo end step pesca una una carta se le tue vite totali sono maggiori delle tue vite iniziali altrimenti fai due vite questa qui e poi la cittella di bolas che in questo mazzo si può abusarne in teoria di vite ne facciamo tante costa 6 guarda la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento puoi giocare carte acini del tuo grimorio e se lanci dalla cima del grimorio paga vite pari al loro costo di mana convertito invece di pagarlo in mana è forte puoi tappalo sacrifichi 10 questi mazzi di solito è obbligatorio metterla dentro cittadella fortissima parto incantesimi vediamo l'autorità del consiglio costa un bianco le creature dei tuoi avversari entrano tappate incolte una creature entra in grado di battaglia sotto il controllo di un avversario fai una vita black market connection costa 3 incantesimo all'inizio della tua pre combat main phase scegli uno o più crea un tesoro perdi una vita pesca una carta perdi due vite crea un cangiante 3-2 colorless perdi tre vite questa qui versatile quindi perdendo in totale 6 vite fai tutti e tre peschi fai tesoro e crei un cangiante che è anche un vampiro e si becca i potenziamenti se c'è qualcosa che dà potenziamenti esattamente poi abbiamo bloodshed ascension costa un nero all'inizio di ogni fine turno se un avversario ha perso due o più vite in questo turno puoi mettere un quest counter sul bloodshed ascension ogni volta una carta viene messa nel cimitero di un avversario da qualsiasi zona se il bloodshed ascension ha tre o più segni di quest su di esso puoi fare che quel giocatore perda due vite e se lo fai tu guadagni due vite è un po' lunga ma va bene fa perdere le vite le avversarie e tu fai due vite modo aggiuntivo per perdere per fare il nostro si poi costa uno costa uno si può iniziare praticamente dai primi turni a farlo se ce l'hai in mano fortissimo come in D exclusive blood costa 5 ogni volta un avversario perde vite tu guadagni altrettante vite fortissimo poi smothering tight e gancio del massacro da carne quindi due carte molto molto forti smothering tight super staple di commander e gancio da carne anche questo qui si può in mazzi come questo poi approfittarne alla grandissima andiamo a vedere le terre andiamo a vedere quelle più particolari c'è la bojuka boc per esiliare i cimiteri c'è il gaijo per fare dei danni tattici volanti la fetch la shockland la bond poi abbiamo shatterhead sacrum entra tappata a meno che non controli due o più altre terre ok le caverne di coilos che era un filtrino radiant fountain quando entrano ci sta war room war room tappa di due colore tappa a tre tappa paga vite appare il numero di colori del tuo comandante e pesca una carta ci sta forte quella lì e poi abbiamo cosa rimane cosa rimane niente niente abbiamo visto tutto fettid fettish health ok allora come ti sembra che roba è questo mazzo ma sembrerebbe abbastanza cattivo magari c'è qualche creaturina da poter migliorare tipo quella mitica che si flippa che non mi piaceva granchè la enrica non mi piaceva granchè però insomma se riesci a farla girare dà un po' di potenziamenti e ho visto che ce ne sono parecchie di creature con volare tocco le tale e le gambe le tale allora secondo me invece c'è da migliorare la parte del del mana perché come parlavamo anche con Alessio costa tanto il comandante in effetti ce n'è poco e bisogna rampare un po' di più che in questi colori non è facile quindi io come diciamo appunto con che robe magari qualche creatura in meno come quella da Enrica lì piuttosto che magari ridurre un po' gli istantanei e stregonerie magari limarli take up the shield è buono però non so magari non è il massimo ma anche il down charm si può cioè pervenire dai una comanda combattimento però ci sta per salvarsi ci può stare però calcola che in teoria sei un mazzo che fa tante vite ti puoi permettere di prendere un po' più di danni secondo me bisognerebbe limare un po' di più stregonerie istantanee e qualche creatura per mettere magari qualche talismano qualche altro artefatto che ci fa rampare di più per velocizzare anche il discorso rilancio il comandante o lo lancio per la prima volta perché così senza andare su mox mana vault tutte le cose super super giocate e abusive di questo mondo senza artefatti abusivi prendiamo i nostri talismani e sigilli di quartiere e lo rimpiazziamo sigilli di quartiere si ci piace un talismano un sigillo rubine così quelli che quando tappi ti aggiungono due mana in colori quelle cose lì insomma artefatti di questo tipo per velocizzare un po' la nostra rampata che se no restiamo veramente indietro con gli orzo comunque qua si vede la curva di mana è un po' bilanciata sul 3-4 di costi e ha un piccolo picco sul 6 quindi diciamo che è una curva abbastanza alta quindi insomma bisogna bisogna integrare un po' di più con gli artefatti personalmente perché i classici 1-2-3-4 diciamo i tre principali ci sono Signet Solring e Sfera del Comandante c'è il Princeton Talisman ci metterei dentro almeno altri due o tre almeno qualcos'altro che ti dà il mana colorato talismano e il sigillo secondo me ci vogliono anche il medaglione quelli che c'erano adesso non mi ricordo di che espansione erano i medaglioni che però ti dà il mana colorato e poi alla peggio se non ti serve paghi Todmana e lo sacrifichi non te li ricordi sì sì mi ricordo ma non mi ricordo di che espansione erano insomma poi altre osservazioni che robe ma per il resto ci può stare buon mazzo un buon mazzo i medaglioni erano di Ravnica erano di Ravnica e oppure ecco a proposito di medaglioni cioè medaglioni quelli che dicevamo noi i locket i locket i medaglioni ci sono i rubi qui in questo caso saranno il jet medaglion e il pearl medaglion quelli costano un po' di più però adesso che li hanno ristampati con con modern modern horizon 3 anche quelli lì ci stanno perché a limite ti scontano tutte le magie colorate e avendo costi grossi si ha un buon vantaggio in effetti sì insieme ai medaglioni classici che quelli che i locket quelli che intendevo io di Ravnica di Gilde di Ravnica niente allora Alessio ringraziamo per averci mandato il mazzo ringraziamo tutti quelli che hanno ascoltato il video fino a questo momento e che commenteranno per partecipare al prossimo contest noi faremo del nostro meglio per essere puntuali almeno questa volta vediamo direi che dell'antimetà è tutto al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.